Musica L'impasto attuato dal presidente Solinas rischia di lasciare strascichi pesanti nel centro-destra. L'ex ministro Beppe Pisano, intervistato da Noma Sardegna, è tutt'altro che generoso. Il forzista Ted, dopo l'esclusione, dice una scelta che non ho capito. Si sono concluse le commissioni per audizione dei comitati di borgate e di quartiere, associazioni di categorie, portatori di interesse per il progetto preliminare del PUC di Alghero. Osservazioni entro il 7 dicembre. Nella pagina sportiva del Tg, i risultati del weekend. L'Alghero torna alla vittoria e resta a secondo nel gironè di prima categoria. Vola la fuzza all'Alghero, spazio anche al basket, con l'intervista al direttore generale della Mercedes, Francesco De Rosa. Buon inizio di settimana a tutti voi e bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la politica, la politica regionale. Prima o poi qualcuno mi spiegherà perché il rispetto delle quote rosa debba essere in carico al mio partito e non al Pisdaz. Così il consigliere regionale di Forza Italia, Marco Teddi, a pochi giorni di distanza dal rimpasto della giunta Solinas. Parole rilasciate alla nuova Sardegna e che arrivano dopo l'analisi della situazione politica, sempre per il quotidiano regionale, di una figura di spicco della politica isolana e non solo l'ex ministro Beppe Pisano, che proprio sul nuovo esecutivo non è stato poi così tanto tenero. Mi pare che la giunta regionale abbia acquistato professionalità e perduto peso politico. È svanito nel nulla il programma di fine legislatura, che era stato solenemente enunciato insieme ai fantomatici stati generali. La dura sconfitta dei sardo-leghisti alle elezioni del 25 settembre ha ridimensionato le loro forze e il prestigio dello stesso presidente Solinas e l'estenuante vicenda del rimpasto ha inasprito le tensioni all'interno di Forza Italia e ha indotto gli altri gruppi moderati del centro-destra a interrogarsi sulla loro futura collocazione. Paradossalmente il rimpasto ha aggravato il disagio politico che si proponeva di alleviare, rendendo ancora più difficile la vita della giunta. Parole di Beppe Pisano, ex ministro dell'interno tra il 2002 e il 2006, all'epoca dei governi guidati da Silvio Berlusconi e figura di spicco non solo della politica sarda. Pisano ha parlato a tutto campo in un'intervista rilasciata al quotidiano La Nuova Sardegna non solo della situazione in regione, ma anche del governo guidato da Giorgia Meloni. Ma chiaramente i passaggi più interessanti sono quelli legati a quanto avvenuto nelle ultime settimane a Cagliari con un rimpasto in andato per le lunghe che ha lasciato inevitabilmente strascichi soprattutto tra i partiti moderati della coalizione. Uno su tutti Forza Italia che inizialmente aveva designato l'algherese Marco Tedde per l'assessorato lasciato scoperto da Alessandra Zedda ma che successivamente ha indicato ad Alai dopo il pressing del presidente Solinas alle prese con il grattacapo delle quote rosa. E proprio commentando l'intervista di Pisano, Marco Tedde non ha nascosto i propri dubbi non è stata una delusione ma una scelta che non ho capito, ha detto riferendosi alla mancata nomina d'assessore. Prima o poi qualcuno mi spiegherà perché il rispetto delle quote rosa debba essere in carico al mio partito e non al Pisdaz. Io comunque sono sereno, faccio quello che fa un consigliere in aula sarò la sentinella vigile dell'attuazione nei punti programmatici anche nei confronti degli assessori di Forza Italia, ha detto il consigliere regionale azzurro ribadendo un concetto già espresso nei giorni scorsi. Ha detta di molti, però la mancata nomina di Tedde come assessore più che uno schiaffo all'ex sindaco di Alghero pare essere uno schiaffo al territorio. Parliamo ora del piano urbanistico comunale di Alghero perché è stata una settimana intensa di lavoro quella appena trascorsa per la commissione urbanistica presieduta dalla consigliera comunale di Forza Italia Tatiana Argiolas che con il supporto dei tecnici dell'ufficio del piano del comune e dell'assessore Piras hanno proceduto con le audizioni dei comitati di borgata e di quartiere, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, dei consorsi e degli enti. Audizioni che sono servite a fornire chiarimenti e dare spiegazioni a vari portatori di interesse su questa fase del processo di pianificazione. Si sono concluse le commissioni per audizione dei comitati di borgata e quartiere, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, dei consorsi e degli enti relativi al progetto preliminare del PUC, una settimana intensa di lavoro della commissione urbanistica presieduta dalla consigliera Tatiana Argiolas, quella appena trascorsa, che con il supporto dei tecnici dell'ufficio del piano del comune e dell'assessore Piras hanno fatto le commissioni per le audizioni, come detto, che sono servite a fornire chiarimenti e dare spiegazioni ai vari portatori di interesse su questa fase del processo di pianificazione. Il sindaco Mario Conoci ha sottolineato che la pianificazione urbanistica deve avere una decisa accelerazione. Il PUC in primis è ormai essenziale per ogni tipo di intervento, anche pubblico, e non possiamo permetterci di non definirlo dando una prospettiva di sviluppo organica e condivisa. Il Consiglio Comunale, sono sicuro, ha detto Conoci, sarà interprete di questa esigenza ormai non più differibile. Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione attiva delle varie realtà organizzate nella nostra comunità. Ha commentato l'assessore Emiliano Piras la dimostrazione del fatto che, nonostante la legge non preveda momenti di partecipazione nella fase del progetto preliminare, la scelta di coinvolgere da subito il tessuto economico-sociale sia un fatto positivo, proprio perché lo strumento di pianificazione generale appartiene all'intera città. Nel mentre continuano i confronti e gli incontri, l'amministrazione ha deciso, anche su richiesta dei soggetti coinvolti, di prorogare a mercoledì 7 dicembre il termine di presentazione delle osservazioni, che devono essere inviate all'indirizzo protocollo chiocciolacomune.alghero.ss.it con all'oggetto osservazioni su preliminare del PUC. Nel frattempo, per dare la possibilità a tutti di consultare gli elaborati e la relazione, la documentazione è stata caricata anche sul portale urbanistica del sito del Comune di Alghero. Ci spostiamo ora a Milano, grandissimo successo di pubblico, per vedere e gustare le eccellenze della Sardegna, in vetrina alla 26esima edizione di Artigiano in Fiera, in programma sino all'11 dicembre prossimo a Fiera Milano. Migliaia di visitatori si sono accalcati tra gli stand dell'area Sardegna, che può vandare il primato di essere probabilmente l'unico padiglione ecosostenibile di tutta la Fiera. Uno stand di 3.000 metri quadrati, interamente costruito e materiale ecosostenibile e riciclabile. L'isola ancora protagonista, con decine di aziende sardi, rappresentanza del settore dell'artigianato artistico e dell'agroalimentare, prodotti tipici del territorio, le eccellenze del comparto agroalimentare, i manufatti dell'artigianato artistico, gioielleria di qualità realizzata in corallo sardo e filigrana, e l'è sempre apprezzata dai visitatori arte della coltelleria tipica. Di grande richiamo per il pubblico, inoltre gli spettacoli offerti nell'area appositamente attrezzata, con un corposo cartellone organizzato dalla Fondazione Maria Carta, una ricca rassegna di canti popolari, musiche e danze in ambito tradizionale, con la partecipazione dei suonatori di Launedda, Sorganetto, strumenti sardi e canto a tenore. E all'inaugurazione dello stand della Sardegna c'era anche l'assessore regionale al turismo Gianni Chessa, sentiamolo. Oggi inauguriamo un'eccellenza che è quella della Sardegna, noi promuoviamo unicità, questa è la vera eccellenza, non competizione. Siamo qui a rappresentare alla fiera dell'artigianato, la più importante al mondo, con oltre 1.200.000 presenze, dopo anni di pandemia, quest'anno sarà un boom, sarà così, vedrete, e la Sardegna si è fatta trovare pronta. 3.000 e oltre metri quadri di stand, oltre 83 operatori che rappresentano l'artigianato e l'enogastronomia della Sardegna, tradizione e cultura, come vedete, sempre tutti assieme, suoni a chitarra, launedda, folk, questo è ciò che voglio, una Sardegna unita, una Sardegna autentica, e le persone che sono qui alle mie spalle e qui davanti rappresentano questa autenticità vera che io sto rafforzando in tutte le fiere e tutte le azioni che faccio di promozione nel mondo. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria, a tra poco con la seconda parte quasi interinamente dedicata allo sport. In occasione dei concerti di Lazza il 30 dicembre di Max Pezzali il 31, in programma ad Alghero nel Piazzale della Pace, la Fondazione Alghero intende concedere a imprese commerciali o associazioni temporanee regolarmente costituite 10 postazioni per la somministrazione di alimenti o bevande, 8 dotate di gazebo e impianto elettrico e 2 aree destinate a food truck. Le postazioni verranno assegnate previo pagamento di un corrispettivo forfettario onnicomprensivo, concessione spazio, noleggio e montaggio gazebo, forniture e impianto elettrico, consumi energetici, guardiania notturna. Gli operatori interessati dovranno far pervenire le proprie offerte in busta chiusa utilizzando l'apposita modulistica entro e non oltre le 13.30 del 15 dicembre. Le istanze dovranno essere consegnate esclusivamente a mano, possono essere consegnate a partire da oggi presso il protocollo della Fondazione Alghero, al Qualtè, in largo Qualtè, in caso di offerte identiche varrà il numero di protocollo della domanda. L'operatore che avrà effettuato l'offerta più alta avrà il diritto alla scelta, optando pertanto per lo spazio che più riterrà opportuno. L'avviso completo e la modulistica sono pubblicati sul sito della Fondazione Alghero, nella sezione avvisi e bandi, eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in ordine. All'invito potranno essere inoltrate a mezzo posta certificata all'indirizzo fondazionealghero.chiocciola.informapec.it La Presidenza dell'Università delle Treta di Alghero, invece, comunica che domani, martedì 6 dicembre, alle 16.30, nella sede di Via Sassari 179, il dottor Roberto Barbieri, per il seminario di Storia del Territorio, naturalista, esperto di problematiche ecologiche e specie in ambiente marino, il ricercatore terrà con una conferenza dal titolo Mare e religiosità ad Alghero. Ora, invece, apriamo l'ampia pagina sportiva, lo facciamo con i risultati del weekend calcistico. Vittoria in trasferta sul campo del Sorso per l'Alghero, nella decima giornata del Gironè di prima categoria, ma si rigiocherà, tra l'altro, questo giovedì, giorno dell'Immacolata. Vediamo però anche i risultati in seconda e terza categoria. Vittoria all'inglese nella decima giornata del Gironè di prima categoria per l'Alghero, che spugna il Salvatore Madao di Sorso e riassapore i tre punti dopo il pareggio della settimana scorsa contro il Ploaghe. 2-0 grazie a un gol per tempo nella prima frazione a segno Giovanni Pinna, nella ripresa, e Livesi a timbrare il tabellino. Terreno di gioco inedito, in terra battuta per i giallorossi di Mr. Piras, che inizialmente fanno fatica, poi però prendono sempre più campo. Dopo una bella occasione per il giovane fuoricota Sasso, al ventesimo, alla mezz'ora arriva il vantaggio algerese con Giovanni Pinna, che si fa largo nell'area di rigore e con un destro incrociare batte il portiere di casa. Nella ripresa l'Alghero spinge per cercare il raddoppio. Al quarto d'ora Martinez sfiora il 2-0, che arriva comunque pochi minuti dopo con Livesi. Finisce così con l'Alghero che prosegue la sua corsa nei piani alti del girone di prima categoria ed è sempre il secondo, meno 4, dalla capolista Valle Doria. Quest'ultima ieri ha vinto di misura sul campo del Treseliges. 1-0 risultato finale, con il Valle Doria a segno a metà primo tempo. La squadra di Angelo Bardini scivola al terzo-ultimo posto, con 9 punti nel prossimo turno. Amaria Pia in programma proprio il derby Alghero-Treseliges. Vittoria pesante per la classifica, invece per l'Almedo, nell'anticipo di sabato 3-0 sul campo del Monte Alma, con i gol di Ignani, Morici e Zeraushek. La squadra allenata da Geppo Serra sale così a quota 11. Prossimo match in casa contro l'Ittiri Sprint. Nel girone F di seconda categoria, solo un pareggio per lo Sporting Alghero, che deve ancora una volta rimandare l'appuntamento con la prima vittoria. 1-1 sul campo del Padria, con gli algheresi che acciuffano gli avversari a 10 minuti dalla fine. Sporting agguanta quota 2 Lodine. Nel prossimo turno in programma la partita in casa contro il Coda Ruina. La F.C. Alghero infine batte anche la Fulgor Sassari per 5-0. Il pintore cadeo di Olmedo e prosegue il suo cammino imbattuto in testa alla classifica del girone F della terza categoria. Vittoria meritata per i giallorossi, che hanno dovuto aspettare il secondo tempo per sbloccarsi sotto porta, grazie alle doppiette di Cherchi e Satta e al rigore di Nemore. Dal calcio al calcio a 5, la F.C. Alghero espugna anche il campo del Villa Speciosa e continua la sua corsa nei piani alti della classifica del campionato di Serie C1. 7-4 per i giallorossi di Mr. Rino Monti alla quinta vittoria consecutiva. Partita per certi versi simili alle altre per quanto riguarda l'andamento, con la Fuzza d'Alghero che ha chiuso in svantaggio il primo tempo, nonostante l'iniziale 0-1 siglato dal neo-drivato Fabio Orghe. Nella ripresa i padroni di casa trovano anche il 3-1, ma la formazione algherese reagisce e mette la freccia con Maronia, Molina e Chiglini, anche quest'ultimo nuovo innesto di dicembre. Il Villa Speciosa trova il nuovo momentaneo pareggio, ma i giallorossi non ci stanno. I prima trovano il 5-4 con Molina, poi allungano con Fabio Orghe che all'esordio firma la tripletta personale. Buono l'impatto dei nuovi, compreso il sassarese Cristian Russo, anche se in queste settimane Mr. Monti dovrà lavorare per trovare l'amalgama migliore. La Fuzza d'Alghero è sempre seconda in classifica, in Serie C1 in compagnia del Mogoro, a meno 3 dalla capolista Domus Chia. Nel prossimo turno i giallorossi giocheranno in casa al Palamanchia contro l'Icno Sassa, riappuntamento che sarà venerdì sera 9 dicembre alle ore 21. E ora spazio al basket invece con l'intervista al direttore generale della Mercedes, Francesco De Rosa, che parla di questa prima parte di stagione, non solo della Serie B ma anche delle giovanili, intanto in questo fine settimana tripletta per Bianco Blu con le vittorie di tutte le squadre scese in campo. Francesco De Rosa, parliamo di questa prima parte di stagione, parliamo anche di questo fine settimana, che è stato un bel fine settimana per la Mercedes, sia per le giovanili che per la Serie B. Le squadre scese in campo hanno tutte vinto. Cosa possiamo dire intanto di questo weekend e poi parliamo della prima frazione di questa stagione? Sì, è un weekend positivo, abbiamo iniziato sabato con l'Under 14 allenata da Chico Salvatori, che ha vinto contro Suplanu, poi a seguire c'è stata Suplanu-Mercede della Serie B, vinta di 8 punti, e poi ieri gli Andri 15 hanno vinto contro la Palacanestro Nuoro, quindi un 3 su 3 che non capita sempre. Che squadre sono? Le ragazze sono motivate? Sono pronte? Allora, l'Under 14 e 15 sono il frutto della collaborazione con la Coral, dove giocano le nostre 2008, una 2009, più quelle della Coral 2009-2010. È un gruppo che si sta ancora formando, comunque ci sta dando molte soddisfazioni, stanno crescendo, che quello è l'obiettivo, non è la vittoria in quanto tale, ma è proprio creare dei gruppi che alla lunga continuino. La B, pur essendo molto giovane, oltre all'innesto delle senior, 4 vinte e 4 perse, ci rende soddisfatti. Come si presenta il campionato? Difficile per quanto riguarda la Serie B regionale? Allora, in Serie B c'è la classica mazza campionato, che è la Virtus Cagliari. Quest'anno è molto forte anche Elmas, che ha ereditato diverse giocatrici dallo spirito sportivo, e le altre sono un pochino delle squadre che si equivalgono dall'ultima, diciamo alla terza, e il livello è similare. Lì starà alla crescita delle nostre ragazze per puntare a quei posti, diciamo, play-off. Però per il resto, anche lì è stata fatta con l'obiettivo di dare maggior fiducia al gruppo Ander 17, dove poi sono state inserite le nuove straniere che sono arrivate quest'anno. Per ora i risultati ci stanno dando ragione. Speriamo che sia così fino alla fine. E il basket femminile chiude, l'edizione odierna del nostro telegiornale. Io, come sempre, vi lascio al meteo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Grazie a tutti.